Papa Francesco, Udienza Generale, 6 ottobre 2021, Catechesi sulla lettera ai Galati Cristo ci ha liberati. Riprendiamo, oggi, la nostra riflessione sulla lettera ai Galati. In essa, San Paolo ha scritto parole immortali sulla libertà cristiana. Cosa è la libertà cristiana? Oggi ci soffermeremo su questo tema, la libertà cristiana. La libertà è un tesoro che si apprezza realmente solo quando la si perde. Per molti di noi, abituati a vivere nella libertà, spesso appare più come un diritto acquisito che come un dono e un'eredità da custodire. Quanti fraintendimenti intorno al tema della libertà e quante visioni differenti si sono scontrate nel corso dei secoli. Nel caso dei Galati, l'Apostolo non poteva sopportare che quei cristiani, dopo aver conosciuto e accolto la verità di Cristo, si lasciassero attirare da proposte ingannevoli, passando dalla libertà alle schiavitù, dalla presenza liberante di Gesù alla schiavitù del peccato, del legalismo e così via. Anche oggi il legalismo è un problema nostro, di tanti cristiani che si rifugiano nel legalismo, nella casistica. Paolo invita quindi i cristiani a rimanere saldi nella libertà che hanno ricevuto col battesimo, senza lasciarsi mettere di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Egli è giustamente geloso della libertà. È consapevole che alcuni falsi fratelli, così li chiama, si sono insinuati nella comunità per spiare, così scrive, la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Tornare indietro, e Paolo questo non può tollerarlo. Una predicazione che dovesse precludere la libertà in Cristo non sarebbe mai evangelica, sarebbe forse pelagiana o giansenista o cosa del genere, ma non evangelica. Non si può mai forzare nel nome di Gesù, non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù che ci rende liberi. La libertà è un dono che ci è dato nel battesimo. Ma l'insegnamento di San Paolo sulla libertà è soprattutto positivo. L'Apostolo propone l'insegnamento di Gesù che troviamo anche nel Vangelo di Giovanni. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Il richiamo, dunque, è anzitutto quello di rimanere in Gesù, fonte della verità che ci fa liberi. La libertà cristiana, quindi, si fonda su due pilastri fondamentali. Primo, la grazia del Signore Gesù, secondo la verità che Cristo ci svela e che è Lui stesso. Anzitutto è dono del Signore. La libertà che i Galati hanno ricevuto, e noi come l'oro con il battesimo, è frutto della morte e risurrezione di Gesù. L'Apostolo concentra tutta la sua predicazione su Cristo, che lo ha liberato dai legami con la sua vita passata. Solo da Lui scaturiscono i frutti della vita nuova secondo lo Spirito. Infatti, la libertà più vera, quella dalla scavitù del peccato, è scaturita dalla croce di Cristo. Siamo liberi dalla scavitù del peccato per la croce di Cristo. Proprio lì, dove Gesù si è lasciato inchiodare, si è fatto schiavo, Dio ha posto la sorgente della liberazione dell'uomo. Questo non cessa di stupirci, che il luogo dove siamo spogliati di ogni libertà, cioè la morte, possa diventare fonte della libertà. Ma questo è il mistero dell'amore di Dio. Non lo si capisce facilmente, lo si vive. Gesù stesso lo aveva annunciato quando disse, per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Gesù attua la sua piena libertà nel consegnarsi alla morte. Egli sa che solo in questo modo può ottenere la vita per tutti. Paolo, lo sappiamo, aveva sperimentato in prima persona questo mistero d'amore. Per questo, dice Galati, con un'espressione estremamente audace, sono stato crocifisso con Cristo. In quell'atto di suprema unione con il Signore, Egli sa di avere ricevuto il dono più grande della sua vita, la libertà. Sulla croce, infatti, ha inchiodato la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Comprendiamo quanta fede anima l'Apostolo, quanto grande fosse la sua intimità con Gesù, e mentre da un lato sentiamo che a noi questo manca, dall'altro la testimonianza dell'Apostolo ci incoraggia ad andare avanti in questa vita libera. Il cristiano è libero, deve essere libero, ed è chiamato a non tornare a essere schiavo di precetti, di cose strane. Il secondo pilastro della libertà è la verità. Anche in questo caso è necessario ricordare che la verità della fede non è una teoria astratta, ma la realtà di Cristo vivo, che tocca direttamente il senso quotidiano e complessivo della vita personale. Quanta gente, che non ha studiato, neppure sa leggere e scrivere, ma ha capito bene il messaggio di Cristo, ha questa saggezza che li fa liberi. È la saggezza di Cristo, che è entrata tramite lo Spirito Santo con il Battesimo. Quanta gente troviamo che vive la vita di Cristo più dei grandi teologi, per esempio, offrendo una testimonianza grande della libertà del Vangelo. La libertà rende liberi nella misura in cui trasforma la vita di una persona e la orienta verso il bene. Per essere davvero liberi, abbiamo bisogno non solo di conoscere noi stessi, a livello psicologico, ma soprattutto di fare verità in noi stessi, a un livello più profondo. E lì nel cuore aprirci alla grazia di Cristo. La verità ci deve inquietare. Torniamo a questa parola tanto cristiana, l'inquietudine. Noi sappiamo che ci sono cristiani che mai si inquietano. Vivono sempre uguali. Non c'è movimento nel loro cuore. Manca l'inquietudine. Perché? Perché l'inquietudine è il segnale che sta lavorando lo Spirito Santo dentro di noi, e la libertà è una libertà attiva, suscitata dalla grazia dello Spirito Santo. Per questo dico che la libertà ci deve inquietare, ci deve porre continuamente delle domande, affinché possiamo andare sempre più al fondo di ciò che realmente siamo. Scopriamo in questo modo che quello della verità e della libertà è un cammino faticoso che dura tutta la vita. È faticoso rimanere liberi, è faticoso, ma non è impossibile. Coraggio! Andiamo avanti su questo. Ci farà bene. È un cammino in cui ci guida e ci sostiene l'amore, che viene dalla croce. L'amore che ci rivela la verità e ci dona la libertà. E questo è il cammino della felicità. La libertà ci fa liberi, ci fa gioiosi, ci fa felici. Fratelli e sorelle Ieri la conferenza episcopale e la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, incaricata di valutare l'ampiezza del fenomeno delle aggressioni e delle violenze sessuali compiute sui minori dal 1950 in poi. Ne risultano, purtroppo, numeri considerevoli. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolore per i traumi che hanno subito e la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna per la troppa, lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego, e preghiamo insieme tutti, a te, Signore, la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi, e voi, cari fratelli, che siete venuti qui a condividere questo momento, incoraggio i vescovi e i superioreligiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare, e invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti.